Sono state smontate dall'amministrazione comunale le panchine di piazza della Repubblica a San Nicola a lanciare la sfida il sindaco Cosimo Piccione che invita i suoi concittadini ancora una volta a restare a casa, tanto in piazza non troveranno nemmeno le panchine. Togliendo le sedute e gli schienali sono rimasti soltanto gli scheletri metallici. E questa misura insieme alle tante altre misure che abbiamo applicato a San Nicola rispettando quello che era il decreto ministeriale, ma questa che può sembrare una misura singolare è stata quella che poi ha prodotto i migliori risultati. C'era un problema serio, vista la grandezza della piazza era impossibile poterla rendere interdetta a tutti quanti transennandola e abbiamo pensato bene insieme al vice sindaco di togliere le doghe delle panchine per far sì che gli anziani non si detessero, perché il problema era proprio questo. Al netto del controllo egregio che la Polizia Municipale sta facendo in questo momento è evidente che c'erano delle situazioni dove delle persone anziane si sedevano non rispettando né le misure né indossando la mascherina e quindi più volte ripresi dalla Polizia Municipale intimando anche delle sanzioni pecuniari e penali, ecco non c'era modo. Invece, come ben vedete, il fatto di aver smontato le doghe di ogni panchina, la piazza è deserta e quindi abbiamo risolto egregiamente questo problema. Anche a Nardò l'amministrazione ha chiuso il lungomare e il parco di Porto Selvaggio. A Ruffano il primo cittadino ha lanciato la campagna Nessuno Incontri Nessuno, sono soltanto alcune delle iniziative che vengono lanciate in queste ore nel Salento.